Agustino Olivera, abbiamo già visto il campo, vuoi presentare le tue caratteristiche tecniche di calciatore? Sì, le mie caratteristiche principalmente sono un centrocampista misto, mi piace tanto lavorare in zona non possesso e anche davanti. Senti, condizioni fisiche buone, ti sei allenato, hai giocato all'ultimo lì a Modena, quindi il grado di forma sei in perfetta forma? Sì, sì, in perfetta forma. Prima di venire qua stavo allenando normali, in questo senso sì. Senti, a Modena forse hai avuto poco spazio, hai preferito scendere di una categoria magari per giocare un po' di più? Sì, sì, io questo non lo prendo come gender, sino che lo prendo come un'opportunità molto importante per me, così che voglio trattare di lasciare tutto qua e vengo con questi pensieri. È ovvio, è una responsabilità molto importante che aspetto far bene perché so lo che significa capitano per questa squadra, allora voglio lasciare tutto per fare lo meglio possibile. Sì, sì, ovvio che mi fa sentire importante, sento che hanno fatto una aposta per me e ovvio che è qualcosa in più che mi fa incentivare per fare tutto bene. Lo che penso che hai molto buoni giocatori è che se continuiamo lavorando come se lavora, che guardiamo che se lavora qua, possiamo arrivare a grandi cose. Sì, sì, ovvio, so la situazione che siamo, però sempre il calciatore vuole lo massimo, allora il nostro pensiero è vincere tutta la partita e arrivare al più alto possibile. Questo si vede dentro del campo, non posso dire niente adesso. Lo che sì è che tutti gli impegni e tutta la voglia di fare bene per Catanzaro c'è e sono 100% mentalizzato in Catanzaro e il mio pensiero è 100% qua.